Poi ho pensato ad altro, non c'è niente, pensiamo ad altro, ho pensato anche un genere di avulto thriller, più per me, nel mio accordo, ma ogni volta che ho pensato a fare un'altra storia a parte mi sembrava banale, mi sembrava scontata, un po' interessante e tutte le volte tornavo la faceva Napolino, invece la storia di Giovanna e Edoardo, che magari non era nemmeno più interessante delle altre, però appunto a me in quel momento, tutte le volte che faceva Napolino mi sembrava interessante come dici te, più o meno era probabilmente una mia esigenza anche, dovevo fare merito, insomma questo appunto, che è il mio e mi sono liberata appunto scrivendolo, mettendolo sulla carta e offrendolo anche agli altri, insomma, e anche tutti noi. Bene, grazie a te.